Torna la mezzanotte bianca dei bambini a Pesaro, sabato 2 e domenica 3 settembre in Piazza del Popolo. La festa su misura per i piccoli, collaboratori, creatività, giochi, animazione, musica e tanti spettacoli. Con la partecipazione di Coccole Sonore, le Tartarughe Ninja, lo spettacolare Robot Light Show, cori e orchestra di prestigio e il gran finale con i Nameless in concerto. Ti aspettiamo! La festa inizia alle 18.